Vado, allora qua abbiamo una tartare che andiamo ad impiattare così, molto semplicemente. Poi abbiamo fatto questo disco di grana, come vi dicevo, cercando di recuperare fino alla fine la buccia del grana e ci andiamo a mettere sopra un po' di ricotta che abbiamo condito con quelle polveri di limone eccetera e andiamo a creare una sorta di bouquet per la nostra tartare. Ecco qua. E guarda, molto semplice va? Meraviglia, bellissima anche la ripresa, è venuta a pochissimo. E' veramente meraviglia. Grazie. Grazie.